Visita a mordi e fuggi questa mattina del vicepresidente della regione Gaetano Armao è in città per parlare di porto. Da un lato la darsena commerciale, la cui realizzazione sembra ormai sempre più assumere i contorni di una leggenda metropolitana, dall'altro l'eterna questione del portorifugio, il cui iter continua a essere insabbiato esattamente come l'area portuale gelese. Ad oggi la regione non avrebbe ancora trasmesso tutte le integrazioni richieste a livello ministeriale, prima che possano essere autorizzati i lavori al portorifugio, quelli che dovrebbero contribuire a superare proprio l'insabbiamento del sito. Lo aveva già spiegato la settimana scorsa il senatore Pietro Lorefice dopo i contatti con il RUP della regione. I componenti del comitato proporto hanno perciò chiesto un incontro al presidente della regione nello Musumeci, dopo aver informato anche il prefetto di Caltanissetta. Di incontro con Musumeci ancora non si parla, ma oggi in città è arrivato il suo vice, Gaetano Armao, assessore all'economia della regione. Una visita lampo non annunciata per incontrare sindaco e assessore ai lavori pubblici e parlare proprio di porto. Armao arriva a Palazzo di Città intorno alle 10.30. L'incontro con Greco e Liardi dura appena lo spazio di un caffè, in uno dei bar che circondano Piazza San Francesco, ma c'è il tempo per parlare di hub portuale, un'infrastruttura di cui la Sicilia ha bisogno e per cui anche Gela, secondo il vice presidente della regione, potrebbe tornare in gioco. Eravamo rimasti e ci saremmo sentiti, abbiamo già fatto un incontro da Roma al Ministero, è necessario essere tempestivi sulla vicenda del porto, cerchiamo di capire. Sul porto purtroppo la tempestività in questi anni all'atitato sembra che sia tutto fermo, ogni passo in avanti ci sono spesso dieci passi indietro, che novità ci sono concrete per il porto? Il presidente Musumeci oggi lo ha detto a Chiara Lettera anche in un'intervista al Sole 24 Ore, un porto hub per la Sicilia è essenziale, il problema del governo regionale non è scegliere questo o quell'area perché è chiaro che va fatta una valutazione complessiva, non si parteggia per nessuno. È tuttavia però altrettanto evidente che dobbiamo scegliere il progetto più maturo e quindi nell'ambito delle proposte, dei progetti che più sono convincenti per Roma perché dobbiamo fare un'intesa con Roma sul punto, esaminiamo anche questa situazione. Armao si sbilancia pure sui rapporti tra il governo regionale e l'amministrazione gelese indeboliti in parte dalle vicende legate e dei finanziamenti del patto per il sud e proprio della Darsena. In tutta la Sicilia i rapporti tra il governo e le amministrazioni comunali sono sempre improntate al più corretto rapporto istituzionale, sia che siano vicine politicamente al governo sia che siano dall'altra parte. I rapporti istituzionali il presidente Musumeci li garantisce e il governo sempre al massimo livello istituzionale di correttezza, quindi nessuno abbia per presi in tal senso Gela è come se fosse la prima città per importanza in Sicilia.